Installati i gazebo per proteggere i cittadini dai raggi solari presso il punto vaccinale città di Agropoli. La problematica era stata sollevata da diversi cittadini alcuni giorni fa a causa delle alte temperature che rendono l'attesa che precede l'entrata al centro davvero estenuante. Anche la nostra emittente, su sollecitazione di diversi cittadini e volontari presenti al centro vaccinale, ha realizzato un video la scorsa settimana dove ha messo in evidenza la problematica. Fortunatamente le richieste sono state ascoltate presso Viale Lombardia, l'amministrazione comunale ha provveduto ad installare dei gazebo di legno con dei teluni verdi che di sicuro daranno un po' più di comfort ai tanti cittadini che quotidianamente sono in fila per vaccinarsi. Abbiamo costruito una struttura con un dio lombreggiante che dà un po' di sollievo alle persone in fila, però il problema Raffaella è diverso, nel senso che la palestra non era stata pensata naturalmente perché diventasse un centro vaccinale, quindi effettivamente all'interno c'è molto caldo. Allora quindi in questi giorni, oggi, domani, domani dovremo decidere insieme all'ASL una soluzione, o si riesce a determinare un'accoglienza con un ambiente refrigerato in quella location, quindi bisogna fare un investimento immediato per renderlo possibile, oppure bisogna addirittura cambiare location perché non possiamo, ora che è il tempo, oppure cambiare gli orari anche, noi abbiamo proposto addirittura di fare le sedute in serata, in serale, quindi cominciare anche dal 18-19, magari fino alle 21-22 perché nel periodo estivo, insomma, tutto sommato, le 21 non è un orario come il periodo invernale, la gente è ancora in giro, quindi o spostare con l'orario per avere una temperatura più refrigerato o addirittura spostarci e stiamo valutando quindi o un'altra location, però è chiaro che dobbiamo accogliere le persone in una maniera più giusta e corretta possibile, per questo motivo qualche riflessione la faremo ma veniremo notizia nei prossimi giorni.